Batilix 2 ha creato sconcerto e anche molta preoccupazione tra i fedeli soprattutto. Che cosa secondo lei c'è in gioco? Ma io non penso che sia proprio un Batilix 2, non mi pare che ce ne siano gli estremi. Comunque ha portato sconcerto, certamente ha provocato sconcerto, ma non solo nel popolo, anche in me, vi devo dire la verità. Soprattutto perché si vede subito che qui è un momento in cui c'è un insieme di notizie, di mezze notizie, quindi anche di mezze bugie e anche affermazioni che secondo me non riescono ad avere un loro fondamento serio. Che cosa direbbe a un fedele che le chiede spiegazioni su quello che sta accadendo in Vaticano? Ma ricollegandomi a quanto dicevo prima c'è da dire una cosa molto importante, si stanno mettendo insieme le opposizioni, vengono chiamate così, al rinnovamento che sta facendo, che sta proponendo Papa Francesco. Si mette insieme questo furto di fiducia, come l'ha chiamato l'avvenire oggi, che è una vera e propria mancanza di lealtà proprio da parte di chi ha fatto tutto questo. Quindi si mette insieme l'opposizione al Papa, questo atto compiuto, si mettono insieme anche altri tipi di interventi nei confronti della Chiesa ed è evidente che la gente sia smarrita di fronte a questo. Allora a questo io vorrei rispondere in questa maniera. Prima di tutto per quel che riguarda l'opposizione al Papa. Guardate, io ritengo che sia fisiologico tutto questo perché di fronte a proposte così radicali, così forti, che tra l'altro aveva già fatto il Papa Benedetto, è chiaro che ci può essere chi, pochi, molti, questo non saprei dirvelo, ci possono essere coloro i quali fanno fatica ad accogliere questo cambio di passo. Ma probabilmente, io non voglio giudicare nessuno, probabilmente anche in buona fede alcuni si sono abituati ad alcune logiche, ad alcuni modi di fare, probabilmente anche ad alcuni privilegi. E' chiaro che di fronte a questo c'è una volontà di stoppare o comunque rallentare in tutti i modi. Tra i tanti modi, tra l'altro Papa Francesco, a chiusura del sinodo, ha parlato di metodi impropri, di metodi inaccettabili. Ecco, tra questi metodi ci può essere anche quello di provocare, di provocare scompenso, provocare anche difficoltà attraverso gesti di questo genere. Io mi chiedo, cosa farebbe l'Italia, il popolo italiano, i giornalisti italiani, cosa farebbero se venissero sottrati dei documenti al Presidente Mattarella, al Presidente Renzi, delle conversazioni private e le pubblicassero? Probabilmente qualcuno si metterebbe in giro. Siccome avvengono nella Chiesa Cattolica, stanno tutti quanti adesso come gli sciacalli, proprio come gli sciacalli, a dare addosso a questa realtà. Secondo lei è un attacco alla Chiesa? Se è un attacco alla Chiesa, non saprete dove viene. Sicuramente a qualcuno sta facendo paura, sta facendo paura il processo di rinnovamento che Papa Francesco sta portando avanti. Sta facendo paura a qualcuno che col Papa, tantissimi che accettano questo rinnovamento della Chiesa. A qualcuno io ho l'impressione che faccia paura una Chiesa che comincia ad essere inattaccabile, se alcuni punti, che comincia ad essere più credibile, agli occhi anche dei non credenti. E tutto questo sta facendo perdere, secondo me, la ragione a qualcuno. Ed allora ci si accorge di certi attacchi, certi attacchi assolutamente, assolutamente ingiustificati. Gli autori di questi furti, come anche gli autori dei due libri di prossima pubblicazione, dichiarano di aver agito per il bene del Papa, contrapponendo il Papa un po' a una Chiesa invece in cui i veleni e le menzogne sono abituali. È uno schema che aiuta anche i nemici della Chiesa? Secondo me, secondo me, innanzitutto questi quattro signori, se è vero che hanno detto questo, hanno detto delle cretinate e sanno di mentire, assolutamente, perché non si vuole bene a una persona pugnalandola alle spalle, non si vuole bene a una persona rubando le conversazioni private, non si vuole bene a una persona facendo male a colei che questa persona ritiene la madre, cioè la Chiesa, quindi assodato questo, assodato che è un voler coprire con una foglia di fico un furto, voler coprire con una foglia di fico una mancanza di fiducia, voler coprire con una foglia di fico un gesto assolutamente esecrabile. Questo è chiaro. Metto a parte questo, perché io non vorrei fare il mistico fuori posto, però ricordo un episodio della Bibbia di Ciro il Grande, VI secolo a.C., il quale non era assolutamente un credente, non era assolutamente appartenente al popolo di Israele, però cosa fece? Lui divenne lo strumento nelle mani del Signore perché attraverso alcune leggi potesse essere ricomposto, ricostruito il Tempio di Gerusalemme. Io voglio fare anche una lettura positiva di questa cosa, e cioè mi auguro che chi nella nostra Chiesa sta facendo più fatica ad accogliere i ritmi di Papa Francesco, che poi sono i ritmi del Vangelo, chi sta facendo fatica ad accogliere le logiche di Papa Francesco, che poi sono le logiche evangeliche, spero che venga aiutato da questi scossoni forti, chi di noi fa più fatica ad accogliere questo, venga un po' messo di fronte alla realtà di certi comportamenti, di certe realtà, e dica così non va bene, così io non faccio bene alla Chiesa. E quindi paradossalmente, guardate, questo fatto può anche diventare un fatto positivo, che smobilita un po' certe mentalità. Lei ha avuto modo di incontrare il Papa già domenica, è il giorno di ogni santi, era già avvenuto l'arresto, il Papa secondo alcuni sarebbe amareggiato da tutta questa vicenda, come gli si può stare accanto. Il Papa non mi è apparso particolarmente amareggiato, mi mettono i suoi panni. Io penso che qualsiasi figlio della Chiesa, di fronte a questi attacchi concentrici, non può rimanere indifferente, quindi sicuramente lo fa. Come si può fare a stare vicino al Papa? Intanto prendendo sul serio quell'invito che lui continuamente ci rivolge, pregate per me. Per cui dico preghiamo veramente, perché il Signore illumini il Santo Padre, illumina chi è a più stretto contatto con Lui, ma illumini un po' tutti quanti i credenti a leggere in maniera diversa quello che sta avvenendo. Non è assolutamente una debacle della Chiesa, è invece un momento bello per la Chiesa, è un momento in cui le negatività, le fragilità stanno venendo fuori. Guardate, quando il peccato viene fuori, anche a livello mio personale, quando il mio peccato viene fuori, mi fa male, mi dispiace, però è sicuramente un momento positivo. Cambiando scenario, ci sono delle osservazioni della Corte dei Conti sulle modalità di distribuzione dell'otto per mille. Come risponde la Conferenza Episcopale Italiana? Ma in verità la Conferenza Episcopale Italiana ha già risposto alla Corte dei Conti dimostrando che i conti, i bilanci della Conferenza Episcopale Italiana non è vero che siano bilanci segreti, li conoscono tutti, li conoscono tutti, sono pubblici, tanto per cominciare. D'altra parte penso che qualsiasi fedele vede che c'è nelle parrocchie, nelle varie parrocchie, c'è la bella abitudine da parte di tantissimi parroci di affiggere alla porta della Chiesa i bilanci della Chiesa, per cui penso che chi non è male intenzionato capisca, capisca la faziosità di certe osservazioni che sono state fatte. Quindi, ah, la Conferenza Episcopale Italiana ha già risposto dicendo che i bilanci non è vero, che sono bilanci criptati o nascosti. Seconda cosa, penso che tutti, tutti stiano vedendo in questo momento particolare cosa la Chiesa sta facendo con l'otto per mille. Tenete presente, ma faccio soltanto qualche accenno, no? Tenete presente che oggi ne abbiamo tre di novembre 2015 e ci sono 700 cantieri aperti, ma con i soldi dell'otto per mille, per il restauro dei beni culturali. Lì c'è gente che lavora, è gente che lavora attraverso l'otto per mille. Ci sono cantieri aperti per la edilizia di culto, si fanno per l'otto per mille. Le 1600 realtà che giorno per giorno stanno aperte della Caritas per dare risposte che molto spesso lo Stato non riesce a dare, quelle vengono fatte con l'otto per mille. I 6 milioni di pasti all'anno che attraverso le nostre strutture vengono distribuiti, vengono fatti con l'otto per mille. Gli aiuti che si stanno dando a queste calamità ultime, compresa quella della Calabria. Io ieri sera ho parlato col Vescovo di Locrimon, signor Oliva, dicendogli la vicinanza della CEI, ma che non è una vicinanza fatta di parole e di preghiere, anche se valgono pure quelle, ma fatta di disponibilità a metterci dei soldi necessari per dover venire incontro a queste realtà. Si è fatto così per Rossano qualche mese fa, si è fatto così per Piacenza qualche mese fa, si è fatto così per Genova, si è fatto così per i vari terremoti. Quindi le osservazioni che vanno prese con rispetto, con attenzione, ma alle quali va data una lettura concreta, rispondendo con fatti concreti. Come state sentendo, io non vi sto dicendo cose dell'altro mondo, sto dicendo cose che tutti quanti hanno tra le mani, tutti quanti vedono.